Si chiama Pesaro Challenge e si svolgerà il 3, 4 e 5 settembre nel Parco Miralfiore con un programma vario e divertente. L'evento nasce con un'idea di avviare a Pesaro tornei di varie discipline con squadre provenienti da tutta Italia per segnare un nuovo inizio per lo sport pesarese dopo una lunga e sofferta pausa. Pesaro Challenge è una manifestazione sportiva nazionale che si svolgerà il 3, 4 e 5 settembre nel Parco Miralfiore di Pesaro e ha lo scopo di creare una rete, mettere insieme società sportive di varie discipline per mostrarsi nel periodo migliore dell'anno per promuovere le proprie attività ma anche per creare e organizzare tornei a livello nazionale. Quest'anno questo aspetto è venuto a mancare, causa le restrizioni e causa anche la tardiva riapertura delle federazioni per quello che riguarda gli aspetti dei tornei e le varie competizioni, però farà parte del progetto futuro, dell'evoluzione di questa manifestazione. Le società sportive partecipanti mostreranno così il loro lavoro e la loro passione con giochi e attività, il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Durante l'evento si svolgeranno anche le attività di attacco al centro insieme per lo sport, un evento ispirato ai diritti che dettero origine alla Carta dei diritti dei bambini nello sport e che quest'anno è giunto alla decima edizione. La manifestazione si svolgerà presso il Parco Miralfiore, come ha detto il mio collega, il 3, 4 e 5 settembre. Il parco diventerà il villaggio Pesaro Challenge. L'abbiamo diviso in quattro aree, un'area anfiteatro dove ci saranno degli spettacoli la sera, la prima sera uno spettacolo di danza offerto da Hip Hop Connection e CSD Balletto, la seconda sera invece Pianeta Musica con un concerto al fiumminile e la terza sera invece The Best Off offerto da L'AIMA, l'associazione malati Alzheimer. Mentre durante la giornata ci saranno le attività sportive, le dimostrazioni sportive, dibattiti e convegni sempre legati al mondo dello sport. Questa è l'area anfiteatro, abbiamo l'area dimostrazioni sportive, dove oltre 15 discipline diverse lavoreranno per loro, facendosi promozione per la propria disciplina e dimostrazione delle attività sportive. C'è un'area espositori, dove ci sono presenti molte associazioni che staranno a raccontare ovviamente le loro realtà che sono molto diverse tra di loro e anche espositori che invece promuoveranno le loro attività. Per finire l'attività food, dove ci saranno 4-5 track food, dove si potrà anche mangiare la sera. Questo è il villaggio Pesaro Challenge, l'abbiamo chiamato così. Quindi vi aspettiamo numerosi il 3, 4 e 5 settembre. L'ingresso è libero, potete prenotare il vostro posto tramite la biglietteria online Eventbrite.